I'm off my car! Alex, sei stato te! Oh! Guardi qua, regà! Andiamo, andiamo! Bella pure la rampetta così, dove andiamo? Non là c'è andato qualcuno, andiamo qui! Mmm, bello! Stecche da biliardo, regà! Allora... C'è il volume sempre al massimo! Allora, vediamo! No! Oh! Sono castrato! Che hanno preso? Non c'ho paura! Non ci voglio credere, le disgrazie! Oh, bravo Moretti, chiarato! PTR Joe? Carino, carino il giletto che bisogna risalire da qua, regà! Spettacolare! No! Non mi stanno a sparare sui! No, oppressorino, da parte di chi? Chi è che c'ha l'oppressor? Ingritto! No! Bella, dammi! Oh, oh! Un saluto da Pietro Pios! No, regà! Mi sei buggata la macchina! Eh, quelle rampe... Antonini che se vuole vendicare, io dico, eh! Che se deve vendicare, Antonini! Poverino, poverino! Abbiamo arato! Lino mozzo sta a scrivere! Sicuro! Ti saluto da bagno te! Ok! Dove andiamo? Dove andiamo? No, doni mozzo! Hai trovato la tampetta mia! Saluto, sai? Ti saluto, porc mozzo! Ma chi c'è? Guarda, Franco lì! Non abbiamo un bel niente, sai? Ma nemmeno un'arma, io dico, eh! No, chi c'è? Chi è? Lino mozzo che mi chiama? Ok! Che pistoletta è di caio? Sì, ciao! Un colpo ogni 50 anni! Franco lì, se devi, mannaggia! Ho preso un colpo! Dov'è finita Antonini? Non lo so, ragazzi! Mi ricanna! Questo già... Qualcosina di... più concreto! Non ci piace! Oh! Lino mozzo? Quella è la tampa, raga! Se me becca con la tampa, io non dico niente! No, raga! Andiamo a vedere che c'è sta in giro? Ma sì, dai! No, hanno arrivato a Franco lino! E non mi dica che sta giù! Non lo so che c'è sta, raga! So solo che tutte le cose più belle l'hanno presa! E io! Sono... Sono sbriga! Mamma mia! Corri, corri! No, Mgrat! No, 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 no! Meno male che vanno alti! Ma meno male che vanno alti! Allora, il primo round è di riscaldamento! Sappiamo già dove sta la piccola tampetta, quindi... L'unica cosa l'ho presso, ora non so dove sta, raga! Ok, secondo round! Antibesuini! Bella, bella macchinetta! Già la ci spariamo la miniatura con sta macchina! Allora, la paura mia è che... ...è sciato, veniamo subito nello stesso punto, raga! Succede il panico! Oh! Ok, eh! Primeri, 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 primeri! Corri, corri! No, alzate, alzate! Saluto Ball Street, saluto MacBus! Grazie per la richiesta! Prego, sui, prego! Allora, vuole macchina gialla su amici? Vuole macchina gialla su tutti amici? Ma, raga, ci mettiamo dove sta la rampetta? Che dite, eh? Secondo me è una bella scelta, eh! No, l'Oppressor! No, raga! No! No, una kill a meno! Una kill e sto a posto! Una kill e sto a posto! Una, una, una! Seve, vabbè di fare una kill! Aspettate! No, sto a esplodere! Come si spara? No, raga, sto a esploso! Aramai! Sto a esploso, sto a esploso! Sto a esplodi! Scappa! Dai! No, io voglio, voglio, voglio... Che è successo lì? Lasciami in pace, seve, lasciami in pace! Lasciatemi in pace! Suino stecchita, grappata al muro! Ok! Via, via, andiamo via! No, non mi avvi... Ci voglio credere! Ok! Ho riavviato l'LTS, raga! Non è possibile che il swing ha fatto zero kill in questa bellissima mystery box! Nike, raga! Dove sta? Sto cercando di ragionare dove sta l'Oppresso! Che poco fa, credo! No! Facciamo così? No! Aspettate! Vediamo dove vanno! È lì l'Oppresso, ora! No, mi sa che è lì! È lì! Fabbie! Fabbie! No! Lasciamelo presso! Lasciamelo presso! Ho indovinato, raga! Scusami, Fabbie, perdona, ho mettito uno 70 kill! Fabbie! Fabbie, zitto, zitto, zitto! No! Me la sposti! Me la vedi ti! Grazie! Grazie, 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 Fabbie! Grazie! Andiamo via! No, è se mi distrutta! Vieni qua! Vieni qua! No! È un great! La mia kill! La mia kill! No, chi c'è qua con l'Oppressor? Sei, 20, a te te guarda! Mi dispiace! Mi dispiace, sei, 20! Questa mi conostro? Porchita li ha distrutto, sei, 20? Porchita, Dio, sai che sei in grande, sì? Non sai che sei in grande per il tuo lì? Antonini, varato! Antonini, varato! Per forza, rigami! Chi è che mi ha gianciato? Varato, varato, Antonini! Chi è? Ok, non ho preso! Arrigano! Qua c'è qualcuno? Ah, questo è shelf! No, questo è un great! Ma dove stanno? Eccolo! Porchmoz! Certo, certo! Dove stanno loro? Mamma mia, è pericoloso, regà! Stanno tutti rintanati! Oh! Sta qui, sta qui, sta qui! Sta proprio qua vicino! Dai! Uh, uh, porchmoz junior là, c'è, regà! Aspettate! Sta qui, eh! Ok, aspettate! Che qui la situazione è leggermente tosta, regà! Manca un minuto e sono solamente loro due! Mamma mia! Come... Uno? No, rimangono due! Regà, se è entrato là dentro... Mi ha colpito, regà! Mi ha colpito! Eh, regà, ci ho provato, ci ho provato, ma niente! Ok, secondo round! Comunque, sapete cosa sarebbe carino? Che tipo... Nella Mystery Box ci fosse tipo una sorta di... Torretta, una cosa del genere! Dove uno... Con l'Oppressor va sopra questa torretta laterale! E col cecchino cecchina gli altri! Se si trova un cecchino! Perché di solito quelli che camperano là dentro... È leggermente tosta la situation, regà! È lì! Ok, io sono più bravo a entrare in questi posti che fa le kill! Non c'ho io credere! Non c'ho io credere! Datemi un po' di kill, cortesemente! Ia7 ti dovrebbe beccare, però! Ia7! Chi è? Aspettate... Come ti va tutto? Uh, che arata! Porco, mozzi! Sta bene! Tutte le kill che mi ha fatto! Antonini! Sempre lui! Poverino! No, no! Via, 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 via! Facciamo troppe cavolate, regà! Dove sta? Ma io Dio! E ne qua, Antonini! Provo, lo dico, già! Che sfruttate! Penisco la mia tecnica di sparare tipo così! Ecco, vedete? Che poi il mirino... Dovete capire che c'ha una mini-mira assistita all'oppressore, regà! Ma proprio mini-mini! Che parte così a caso, cioè... Dove stanno i nemici? Questo è tipo... Ma io, regà... Eh... Non mi ricordavo che poteva sparare un missile davanti a me! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! È stato un errore... Da... Da suino distratto, regà! Che dobbiamo fare? Stavo portando a casa tante di quelle kill belle! Che poi... Quanta armatura c'ha quella tampa, regà! Quanta! Peccato! Eravamo a quattro kill! Paravamo portugaseale! Poi eravamo a molino moz! Eravamo a... Settantatré kill! Niente! Niente da fare! L'unica cosa positiva è che abbiamo vinto! Però io direi... Di riavviare l'LTS! Cioè, perché... Teoricamente è partita vincitore! Ultimo round... Con... Con neve! Però diciamo che le ultime due round sono state un po' più carene! Qualche... Qualche cosina ho fatto! Contribuita la squadra! Le prime due round? Nulla, regà! Ma capita, capita! Nella Mystery Box! Può capitare pure zero kill in sette round, regà! Cosa che non voglio provare! Ok! Ho riavviato un altro... L'ultimo round che vince questo vince tutto, regà! Con la neve! E la miseria che... Che luce che c'è! Meraviglioso! Andiamo! Oh, regà! Che casino l'inizio! Dai, ma tutti i nemici ce l'hanno fatto! Dove sta l'oppressorina? No, nessuno, nessuno ci va! Nessuno va della mia oppressorina! Ti prego, spiegate prima che arriva qualcuno! Sui giochi ai miei... Larga, disse! Dove vanno? Sì, sì, farò gioco sui! Dove vanno? Sì, sentate, moriamo qualcuno, eh! Dove scappi da me? Sì, ma io volevo un 70, regà! Volevo un piccolo 70 che non mi è stato concesso! Oh, ma un colpo... Ok, ho arato qui, non devo arare! Ho girato per ultimo! Dipende se ci arriviamo o per ultimo! Ma chi è che sta a sparare? Sti missili, oh! Ah, dammi il mozzo, dammi la nostra squadra! Guardate, la minimi assistita! Quasi arato, eh! Perché non va? Ah, scendi giù, mirino! Qua dovrebbe scendere! Niente, facciamo così! Ok, facciamo prima, regà! A volte, subito, sembra quasi che aggancia la macchina! Non l'ho arato? No! Partisse ventista nella nostra squadra, regà! Non l'ho arato, non ce l'ho io crede! Lo volevo arare! No, no! Chi è questo? Ha arato a sei, venti! No, no, regà, non facciamo cavolate! Questo è l'ultimo round! Dove sta? Guardate, ho arato, regà, non so come, regà! Cioè, qualcuno sta a piedi? Aspettate! No! Non ci voglio credere! Dai, vuoi i missili! Dai, vieni qua, Martag! Mi devo allontanare un po' Quanto è difficile il duello! Madori, regà! Qua lanciano pure i missili! Dai, era preciso! Sai che mi conviene sparare sempre? L'ho preso? O mi ha preso a me? Madò! Dai, quanto è vicino! Regà, era tipo un artestolino! Preso? Ah, gentia! Con c'è di vista kill all'ultimo secondo a Motog! Niente, abbiamo perso! Niente, abbiamo perso! Sì, ciao! Non lo so! Abbiamo vinto! Abbiamo perso! Che è successo? Vincitore! Va bene così, va bene così! Comunque sia, se vi è piaciuta questa Mystery Box Nike di GTA 6 Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video! Bye! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.